Allora, prima di tutto vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di vivere un'esperienza in una città magnifica e che ha una storia incredibile di palacanestro. Mi è molto piaciuta la società, l'ho trovata bene organizzata, mi sono piaciute le parole del Presidente che ha detto praticamente che era onorato e ci ha ringraziato tutti per essere partesti di un percorso e il percorso è una parola molto bella, molto bella, vuol dire che presuppone degli obiettivi, una crescita, i ragazzi li ho trovati ben disposti, li ho trovati molto attenti, molto attenti e partecipi e mi ha fatto veramente piacere. Beh, sei un attento osservatore. Non bisogna mai dimenticarsi che prima che giocatori e atleti sono uomini e che una squadra è formata da tanti singoli ma è un gruppo e quindi il conoscersi e il potersi fidare uno dell'altro è alla base di qualsiasi risultato sportivo e sono molto contento di aver lavorato insieme a quella che è il mio capo allenatore Federica Tonni e Andrea, io mi considero un signor assistant e ho messo la mia esperienza di questi anni che ho passato soprattutto a Cantù perché credo che sia importante costruire e dare una profondità e una solidità alle relazioni tra i giocatori.